A occidente di Arkham le colline si innalzano all'improvviso, tra valli e boschi profondi che non hanno mai conosciuto la scure. Vi sono macchie strette e buie dove gli alberi si inerpicano in maniera fantastica e roscelli che non hanno mai visto la luce del sole. Su pendii più dolci sorgono antiche fattorie di pietra e tozzi cottage coperti di musco che meditano da secoli sui segreti del New England, al riparo di grandi costoni di roccia. Si tratta di costruzioni per la maggior parte ormai disabitate, con grandi comignoli in rovina e fianchi pericolosamente gonfi sotto i tetti bassi a doppio spiovente. La gente che ci abitava è andata via e ai forestieri quei posti non piacciono. Ci hanno provati i franco-canadesi, gli italiani e i polacchi, ma come sono venuti così se ne sono andati. Il motivo non è qualcosa che si veda, si senta o che si possa toccare, ma anzi qualcosa che si immagina soltanto. È una regione che non fa bene all'immaginazione e di notte non procura sonni tranquilli. Deve essere questo che tiene alla larga i forestieri, perché con loro il vecchio Ammi Pierce non ha mai aperto bocca su ciò che ricorda dei giorni terribili. Ammi, che da qualche anno non ha la testa del tutto a posto, è l'unico che ancora rimanga laggiù o che osi parlare dei giorni terribili. E se si azzarda tanto è perché la sua casa è molto vicina ai campi aperti e alle arterie piene di traffico intorno ad Arkham. Una volta c'era una strada che attraversava le valli e le colline in linea retta, puntando dove ora si trova la landa folgorata. Ma la gente ha smesso di usarla, perciò è stata preparata una nuova arteria che gira intorno alla landa e piega molto a sud. Le tracce della via vecchia si notano ancora tra la vegetazione selvatica che riprende il sopravvento e qualcuna resterà anche dopo che metà delle valli saranno inondate dalle acque del nuovo bacino. Allora i boschi oscuri verranno abbattuti e la landa folgorata dormirà sotto acque azzurre la cui superficie specchierà il cielo, increspandosi alla luce del sole. E i segreti di quei terribili giorni saranno tutt'uno con i segreti dell'abisso, tutt'uno con la sapienza occulta del vecchio oceano e i misteri della terra primitiva. Quando mi inoltrai tra valli e colline per un sopralluogo della zona in vista del nuovo bacino, mi dissero che la regione era maledetta. Me lo dissero ad Arkham e poiché è un'antica città ricca di leggende di stregoneria, pensai che il male a cui alludevano fosse uno degli spauracchi con cui le nonne avevano atterrito i bambini per secoli. Il nome landa folgorata mi sembrò strano e teatrale e mi chiesi come fosse entrato nel folclore di quelle genti puritane. Poi vidi coi miei occhi quello scuro groviglio di macchie e pendii che si stende verso occidente e smisi di farmi domande, tranne sull'antico mistero del luogo. Lo vidi di mattina, ma in quel posto le ombre sono eterne, gli alberi crescevano troppo addossati gli uni agli altri e i tronchi erano troppo grandi per un normale bosco del New England. Negli oscuri vialetti che li separavano c'era troppo silenzio e il terreno era troppo morbido per l'umidità del musco e l'accumulo di infiniti anni di corruzione. Negli spazi aperti, soprattutto lungo il tracciato della vecchia strada, si vedeva qualche piccola fattoria addossata ai fianchi delle colline. A volte, con tutti gli edifici ancora in piedi, a volte solo uno o due, o addirittura un semplice comignolo e le fondamenta semiallagate. Era il regno delle erbacce e della flora selvatica, e nel sottobosco correvano furtivi i più diversi animaletti. Sottutto gravava un alone di inquietudine e d'oppressione, un tocco irreale e grottesco, come se un elemento fondamentale della prospettiva o del gioco di luce fosse sbagliato. Non mi stupì che i forestieri non volessero abitarci, perché non era una regione nella quale si potesse dormire volentieri. Somigliava troppo ad un paesaggio di Salvatore Rosa, ad un'orribile incisione di un racconto del terrore. Ma nulla di tutto questo era pauroso come la vera e propria landa folgorata. Appena la vidi, in fondo ad una valle spaziosa, capì che l'avevo di fronte. Nessun altro nome avrebbe potuto adattarsi ad un simile paesaggio, e nessun paesaggio avrebbe meglio meritato quel nome. Era come se un poeta avesse coniato la frase dopo aver visitato quella particolare regione. Nel vederla pensai che fosse il risultato di un incendio. Ma com'era possibile che neanche un filo d'erba fosse ricresciuto sui cinque acri di grigia desolazione che si stendevano sotto il cielo come una cicatrice scavata dall'acido fra i boschi e i campi? Si trovava per lo più a nord dell'antico tracciato stradale, ma in minima parte debordava anche dall'altro lato. Nell'avvicinarmi sentì una strana riluttanza, e alla fine l'attraversai solo perché il mio lavoro mi costringeva a passarci e andare al di là. Per vasta che fosse, sulla distesa non c'era traccia di vegetazione, solo polvere grigia o ceneri che il vento sembrava incapace di disperdere nei dintorni. Gli alberi che la circondavano erano malati e contorti, e sull'orlo della landa si scorgevano parecchi tronchi morti o caduti e marcescenti. Affrettai il passo, e alla mia destra vidi il cumulo di pietre e mattoni di un vecchio comignolo con le fondamenta di una casa. Dalla nera apertura del pozzo abbandonato si alzavano vapori stagnanti che facevano strani scherzi alla luce del sole. Per contrasto, anche il lungo e oscuro pendio coperto di boschi che si stendeva oltre, mi parve il benvenuto, e cessai di stupirmi dei racconti terrorizzanti che si sussurravano ad Arkham. Nelle vicinanze non si scorgevano altre case o rovine. Anche ai vecchi tempi il luogo doveva essere stato remoto e solitario. Al crepuscolo, temendo di ripassare nella landa minacciosa, scelsi la strada curva che si spinge a sud, e preferì tornare in città per la via più tortuosa. Avrei desiderato che ci fosse qualche nuvola perché nella mia anima si era insinuato uno strano timore dei grandi cieli vuoti sopra di me. A sera chiesi ai vecchi di Arkham qualche notizia in più sulla landa folgorata e che cosa si intendesse per «giorni terribili», una locuzione che non pochi borbottavano elusivamente. Non riuscì ad ottenere risposte coerenti, a parte che il mistero era molto più recente di quanto avessi immaginato. Non era affatto un'antica leggenda, ma un avvenimento che risaliva alla gioventù dei testimoni. Tutto era accaduto negli anni Ottanta, quando una famiglia della zona era scomparsa o rimasta uccisa. I narratori non sapevano essere più precisi e siccome tutti mi raccomandarono di non far caso ai racconti pazzeschi del vecchio Ammy Pierce, la mattina dopo andai a trovarlo. Avevo saputo che viveva da solo nell'antico cottage cadente dove gli alberi cominciavano ad addensarsi. Era un luogo paurosamente antico e aveva cominciato ad essudare il vago dor di miasma che sprigiona dalle case troppo vecchie. Solo bussando ripetutamente riuscì a smuovere il vecchio e quando ci abattò timidamente alla porta capì che non era affatto lieto di vedermi. Non era debole come mi ero aspettato, ma teneva gli occhi socchiusi in uno strano modo e i vestiti bisunti e la barba bianca lo facevano sembrare estremamente scarno e povero. Ignorando il modo migliore per incitarlo a parlare, finsi di essere lì per lavoro. Gli dissi che dovevo fare un sopralluogo e gli feci qualche vaga domanda sulla zona. Il vecchio si rivelò molto più lucido e istruito di quanto mi avessero dato ad intendere e in un attimo capì qual era il mio ruolo e il mio compito, proprio come i cittadini di Arkham. Ammi non era come gli altri contadini che avevo incontrato nella zona del futuro bacino. Non protestò minimamente per i chilometri di boschi e terra di pastura che stavamo per inondare, anche se forse l'avrebbe fatto se la sua casa si fosse trovata nei limiti del lago artificiale. Al contrario, mostrò sollievo per il destino che attendeva le antiche valli oscure in cui aveva vagato tutta la vita. Era meglio che si trovassero sott'acqua, meglio, sì, dopo i giorni terribili. Dopo questo esordio la voce rauca di Ammi Peirce si abbassò mentre il corpo si protendeva verso di me e l'indice della mano destra indicava qualcosa nell'aria, vibrando in modo impressionante. Fu allora che appresi la storia. E mentre quella voce di vecchio tornava sussurrando agli avvenimenti del passato, mi scoprì più volte a tremare nonostante fossimo in estate. Spesso dovetti richiamarlo dalle sue divagazioni, correggere la terminologia scientifica che egli conosceva solo lozzamente, come chi ricorda a memoria i discorsi di persone più istruite, o colmare la cune dove il suo senso della logica e della continuità veniva meno. Quando ebbe finito, mi resi conto del perché fosse andato fuori di testa, o perché la gente di Arkham non amasse parlare della landa folgorata. Corsi al mio albergo prima del tramonto, perché non volevo che le stelle mi sorprendessero all'aperto, e il giorno dopo tornai a Boston per dimettermi. Non avrei mai potuto avventurarmi di nuovo in quello scuro groviglio di antichi boschi e colline. Non avrei mai potuto affrontare di nuovo la landa folgorata dove il pozzo abbandonato scendeva nelle viscere della terra accanto al rudere di pietra e mattoni. Il bacino verrà costruito tra poco, e i vecchi segreti della regione saranno al sicuro per sempre sotto molti metri cubi d'acqua. Ma anche quando ciò sarà avvenuto, non credo che mi piacerà visitare la zona di notte, almeno non quando risplende il cielo stellato. Per niente al mondo, inoltre, berrei l'acqua che il nuovo bacino porterà ad Arkham. Tutto cominciò, disse il vecchio Ammi, con il meteorite. Prima di allora la regione non aveva conosciuto altre leggende che quelle ricamate intorno ai processi per stregoneria, e anche allora i boschi occidentali di quella parte dello stato non avevano goduto di una fama paragonabile alle isolette nel corso del fiume Miskatonic, dove il diavolo teneva corte davanti ad un bizzarro altare di pietra più antico degli indiani. Non erano insomma boschi infestati, e fino ai giorni del meteorite i loro suggestivi crepuscoli non furono mai ritenuti spaventosi. Poi, un giorno a mezzogiorno, in cielo si era addensata una nuvola bianca, nell'aria era risuonata una serie di scoppi, e dalla valle in mezzo al bosco si era levata una colonna di fumo. Entrosera tutta Arkham aveva saputo del grande sasso piovuto dal cielo e conficcatosi nel terreno adiacente al pozzo della fattoria di Neom Gardner. Era quello l'edificio che sorgeva, solitario, nel punto dove un giorno sarebbe giunta la landa folgorata. La bella, bianca casetta di Neom Gardner, in mezzo a fertili giardini e frutteti. Neom era venuto in città per dire alla gente del meteorite, e strada facendo si era fermato a casa di Ammi Pierce. A quell'epoca Ammi aveva 40 anni, e gli avvenimenti bizzarri che seguirono si impressero profondamente nel suo cervello. Furono Ammi e sua moglie ad accompagnare i tre professori della Miscatonic University, che il mattino seguente si affrettarono sul posto per esaminare il visitatore sconosciuto degli spazi interstellari. E i professori si chiesero per quale ragione, il giorno prima, Neom lo avesse definito così grande. «Si era rimpicciolito», rispose il contadino, indicando il cospicuo monticello di terra bruna e di erba bruciata vicino all'antico pozzo che sorgeva nel cortile della fattoria. Ma gli scienziati risposero che le pietre non rimpiccioliscono. Il calore che emanava continuava ad irradiare nella zona, e Neom affermò che di notte emetteva un debole bagliore. I professori testarono il meteorite con un martello da geologo e scoprirono che era stranamente morbido. Anzi, così morbido da essere quasi plastico. Il campione che prelevarono per un più attento esame all'università non fu scalfito dal blocco, ma quasi strappato. Poi fu messo in un vecchio secchio preso nella cucina di Neom, perché anche un così piccolo esemplare rifiutava di raffreddarsi. Nel viaggio di ritorno gli studiosi si fermarono a casa di Ammi per riposare, e quando la signora Pierce osservò che il frammento rimpiccioliva e che stava bruciando il fondo del secchio, rimasero alquanto perplessi. È vero, non era grande, ma forse ne avevano prelevato uno più piccolo di quanto pensassero. Il giorno seguente, si era nel giugno dell'82, gli scienziati tornarono sul posto in preda ad una grande eccitazione. Passando davanti a casa di Ammi, gli raccontarono lo straordinario comportamento del campione e come fosse completamente scomparso quando lo avevano messo in un recipiente di vetro. Il recipiente era scomparso a sua volta, e i professori parlavano di una misteriosa affinità dell'oggetto con i composti del silicio. Nell'ordinato laboratorio dell'università, l'esemplare aveva sorpreso tutti. Non aveva reagito né prodotto fughe di gas quando lo avevano scaldato sul carbone. Si era mostrato del tutto negativo al contatto col borace, e certo non volatile a qualsiasi temperatura ottenibile dall'uomo, compresa quella del cannello sidrico. Messo su un'incudine, si era rivelato altamente malleabile, e nel buio la sua luminosità era apparsa notevole. La proprietà che gli impediva di raffreddarsi aveva gettato tutta l'università in uno stato di profonda eccitazione, e quando, scaldato davanti ad uno spettroscopio, aveva rivelato una serie di bande luminose diverse da qualsiasi colore dello spettro normale, si era parlato concitatamente di nuovi elementi, bizzarre proprietà ottiche, e altre cose che gli uomini di scienza perplessi tirano in ballo quando si trovano di fronte all'ignoto. Per caldo che fosse, l'oggetto fu testato in un crogiolo con tutti i reagenti tradizionali. L'acqua non gli fece niente, l'acido cloridico lo stesso. L'acido nitrico e l'acquaragia produssero uno sfrigolio e qualche bollicina intorno all'oggetto torrido e invulnerabile. Ammi non ricordava bene tutti i particolari, ma riconobbe i nomi dei solventi quando gli elicitai nel consueto ordine di impiego. C'erano ammoniaca e soda caustica, alcol ed etere, il nauseabondo solfuro di carbonio e una decina d'altri. Ma benché il peso dell'oggetto diminuisse regolarmente col passar del tempo e il frammento cominciasse a raffreddarsi un poco, non ci fu nessun cambiamento nei solventi e non si ebbe la minima prova che avessero attaccato la sostanza. Senza dubbio, tuttavia, si trattava di un metallo. Aveva proprietà magnetiche e dopo l'immersione nei solventi acidi sembrò di poter rilevare sul ferro meteorico deboli tracce delle configurazioni di Wittmann-Staten. Quando il raffreddamento fu aumentato in modo considerevole, l'esame venne ripetuto nel vetro. In un contenitore di questo materiale furono lasciate tutte le schegge in cui il frammento originario si era ridotto durante il lavoro. La mattina seguente, schegge e contenitore erano scomparsi, senza lasciare tracce. E solo una chiazza carbonizzata indicava il punto dello scaffale in cui erano stati messi. Tutto questo dissero ad Ammi gli scienziati mentre facevano una pausa davanti alla sua porta e ancora una volta egli li seguì nel posto in cui era precipitato il messaggero dal cielo. Questa volta sua moglie non lo accompagnò. Ormai era evidente che l'oggetto era rimpicciolito e persino i sobri professori non poterono dubitare di ciò che vedevano. Intorno al monticello, sempre più piccolo che si era formato nei pressi del pozzo, c'era uno spazio vuoto, tranne dove la Terra aveva ceduto. E se il giorno prima il diametro dell'oggetto era stato di buoni due metri e mezzo, adesso non superava il metro e settanta. Il meteorite era ancora caldo e gli studiosi ne esaminarono la superficie con curiosità, mentre ne staccavano un altro e più largo frammento con martello e scalpello. Stavolta lo intaccarono profondamente e nell'asportare la massa prelevata si accorsero che il nucleo dell'oggetto non era affatto omogeneo. Avevano scoperto ciò che sembrava il fianco di un globulo colorato, incassato profondamente nella materia esterna. Il colore, che somigliava ad alcune bande dello straordinario spettro della meteora, era quasi impossibile a descriversi e solo per analogia gli studiosi lo definirono tale. Era fatto di una sostanza lucida che percossa faceva pensare ad una certa fragilità e ad un'eventuale concavità. Uno degli scienziati le diede un colpetto con il martello e il globo si frantumò con un piccolo schioppo nervoso. Non ne uscì niente ed ogni traccia del rivestimento lucido scomparve dopo la martellata. Al suo posto rimase uno spazio sferico e cavo del diametro di circa 7 centimetri e tutti pensarono che a patto di frantumare il guscio esterno ne sarebbero stati scoperti altri. Ma era inutile far congetture e dopo un vano tentativo di trovare altri globuli scavando intorno, i ricercatori se ne andarono ancora una volta con l'esemplare che avevano asportato, il quale si rivelò in laboratorio altrettanto enigmatico del suo predecessore. A parte il fatto di essere praticamente elastico e di possedere calore, magnetismo e una leggera luminosità, a contatto degli acidi più potenti si raffreddava appena. Rivelava uno spettro sconosciuto, evaporava a contatto dell'aria e attaccava i composti del silicio con risultati di reciproca distruzione, ma non presentava altre caratteristiche che permettessero di identificarlo. Al termine degli esami, gli scienziati dell'università furono costretti ad ammettere che non erano in grado di classificarlo. Non apparteneva a questa terra. Era un frammento del grande vuoto esterno e, come tale, dotato di proprietà esterne e obbediente a leggi sconosciute. Quella notte ci fu un violento temporale. Il giorno dopo, recandosi alla fattoria di Neum, gli scienziati andarono incontro ad una mara delusione. La pietra, che fino a ieri aveva rivelato proprietà magnetiche, doveva possedere bizzarre qualità elettriche, perché, stando al racconto di Neum, aveva attirato il fulmine con singolare costanza. Per sei volte in un'ora il contadino aveva visto il lampo colpire il pozzo in cortile e, quando il temporale era finito, non ne rimaneva che una voragine irregolare, mezzo strozzata dalla terra che aveva ceduto. Scavare non servì a niente e gli scienziati presero atto che l'oggetto celeste era scomparso del tutto. La delusione fu completa. Non restava che tornare in laboratorio ed esaminare di nuovo il frammento lasciato per precauzione in una scatola di piombo. Quell'unico reperto durò una settimana, alla fine della quale non si era preso nulla di nuovo. Una volta scomparso, non lasciò dietro di sé alcun residuo e col tempo gli scienziati cominciarono quasi a dubitare di aver visto coi propri occhi quel misterioso vestigio delle insondabili profondità dello spazio. Solitario, fantastico messaggero giunto da altri universi e da altri regni della materia, dell'energia e dell'essere. Com'è naturale, i giornali di Arkham parlarono a lungo dell'incidente e dell'interesse che aveva suscitato negli uomini dell'università e inviarono il loro reporter alla fattoria di Neom Gardner perché intervistassero lui e la sua famiglia. Almeno un quotidiano di Boston inviò un corrispondente e Neom diventò in breve una sorta di celebrità locale. Era un uomo magro e cordiale sulla cinquantina e viveva con la moglie e tre figli in una gradevole fattoria in mezzo alla valle. Spesso andava a trovare Ammi e questi ricambiava le visite come pure avveniva fra le rispettive mogli. Nei lunghi anni della loro amicizia e anche dopo la stima di Ammi Pierce per l'amico non era mai venuta meno. Neom sembrava vagamente orgoglioso della notorietà acquisita dal suo podere e nelle settimane seguenti parlò più volte del meteorite. Luglio e agosto furono mesi caldi e Neom lavrò sodo alla mietitura del campo di dieci acri che possedeva oltre il torrente di Chapman e il suo carro incideva solchi profondi nei sentieri ombrosi che portavano laggiù. Il lavoro lo stancò più di altri anni e si rese conto che l'età cominciava a farsi sentire. Poi venne il tempo della frutta e della raccolto. Pere e mele maturarono lentamente e Neom giurò che i suoi frutteti non avevano mai prosperato come quella volta. I frutteti crescevano a dimensioni eccezionali, avevano un aspetto lustro e ce n'era in tale abbondanza che bisogna ordinare altri barili per i successivi raccolti. Ma ben presto arrivò la delusione. Per magnifici e appetitosi che fossero a vedersi, nemmeno uno era commestibile. Nel buon sapore delle pere e delle mele si era insinuato un gusto amaro, malsano, tale che il più piccolo morso dava il disgusto. Lo stesso avvenne con i meloni e i pomodori e Neom vide con tristezza che il raccolto era perduto. Svelto nel collegare i vari fatti, affermò che il meteorite aveva avvelenato la terra e ringraziò il cielo che gran parte dei terreni che gli restavano sorgessero lungo la strada sul pendio che saliva verso il colle. L'inverno venne presto e fu molto freddo. Ammi vide Neom meno spesso del solito, ma si rese conto che appariva sempre più preoccupato. Anche il resto della famiglia si era fatto taciturno, non andavano più in chiesa regolarmente e mancavano ai raduni della gente delle campagne. Non sembrava esserci motivo per tanta riservatezza o malinconia, benché tutta la famiglia confessasse di tanto in tanto un certo malessere e una vaga sensazione di inquietudine. Lo stesso Neom fece la dichiarazione più concreta quando disse di essere preoccupato da certe impronte nella neve. Erano le solite impronte degli scogliattoli rossi, dei conigli bianchi e di qualche volpe, ma lo stato d'animo del contadino era quello che era ed egli sostenne che nell'aspetto delle orme c'era qualcosa di anormale. Non fu mai più preciso, ma lasciò intendere che non corrispondessero all'anotomia o alle abitudini di scogliattoli, conigli e volpi come le conosciamo. Ammi ascoltò questa confessione senza troppo interesse fino alla sera in cui passò con il calesse davanti a casa di Neom, proveniente da Clark's Corners. C'era la luna e un coniglio si era fatto sulla strada, a balzi più lunghi di quelli che Ammi o il suo cavallo fossero abituati a vedere. Il cavallo, in particolare, aveva dato uno scarto improvviso ed Ammi aveva dovuto fermarlo tirando bruscamente le redini. Da quella volta in poi, Ammi ascoltò i racconti di Neom con maggior rispetto e si chiese perché i cani di Gardner al mattino avessero un aspetto così spaurito e tremante. Si venne a sapere poi che avevano quasi perduto la voglia di abbagliare. In febbraio i ragazzi di McGregor si calarono da Meadow Hill per andare a caccia di Merly e non lontano dalla fattoria Gardner abbatterono un esemplare molto strano. Le proporzioni del corpo parevano lievemente alterate ma in un modo strano e indescrivibile mentre il muso aveva preso un'espressione che nessuno aveva mai visto in un merlo. I ragazzi erano spaventati sul serio e immediatamente si liberarono dell'animale. In questo modo la gente delle campagne non pote contare che sui loro racconti grotteschi. Ormai era un fatto risaputo che vicino alla fattoria di Neom i cavalli si innervosivano e su questo prese forma rapidamente tutta una serie di racconti sussurrati a mezza voce. La gente assicurava che intorno a casa di Neom la neve si sciogliesse più in fretta che altrove e ai primi di marzo ci fu un'animata discussione nel magazzino di Potter a Clark's Corners. Quella mattina Stephen Rice era passato accanto alla casa dei Gardner e aveva notato che al di là della strada dalla terra fangosa che lambiva il bosco cominciavano a far capolino i cavolfiori. Non si erano mai viste cose simili e brillavano di colori che era impossibile descrivere. Di forma mostruosa emettevano un odore che colpì Stephen come niente prima di allora. Anche il cavallo aveva dato uno scarto. Quel pomeriggio diverse persone andarono nella zona in calesse per vedere i cavoli abnormi. Tutti acconsentirono che vegetali del genere non avrebbero dovuto nascere in un mondo sano. Ci si ricordò con dovizia di particolari che l'autunno prima Neom aveva raccolto frutti cattivi e di bocca in bocca si diffuse la voce che la terra dei Gardner fosse avvelenata. Ovviamente era colpa del meteorite e ricordando che gli uomini dell'università l'avevano giudicato tanto strano alcuni contadini riferirono loro quello che era accaduto. Un giorno i professori fecero visita a Neom Gardner ma siccome non amavano i racconti sensazionali e le leggende delle campagne da ciò che videro trassero solo conclusioni ortodosse. I vegetali erano certamente strani ma tutti i cavolfiori sono più o meno strani per quanto riguarda la forma il colore e l'odore. Forse qualche elemento minerale del meteorite si era infiltrato nel terreno ma ben presto l'acqua lo avrebbe disciolto. Quanto alle impronte e ai cavalli spaventati non erano che leggende campagnole a cui un fenomeno come quello non poteva non dar luogo. Gli uomini di scienza non possono far niente quando si tira in ballo la superstizione perché la gente di campagna dice e crede di tutto. Così per tutta la durata dei giorni terribili i professori se ne rimasero all'università pieni di disprezzo. Solo uno al quale un anno e mezzo dopo la polizia consegnò due fiale di polvere da sottoporre ad analisi ricordò che il bizzarro colore dei cavolfiori gli aveva ricordato da vicino quelle delle anomale bande di luce emesse dal frammento meteorico allo spettroscopio dell'università. Colore che ricordava anche quello del fragile globo immerso nella pietra piovuta dagli spazi. I campioni di terreno sottoposti ad analisi mostrarono per un certo periodo le stesse bande sebbene più tardi perdessero tale proprietà. Intorno alla fattoria di Neum gli alberi fiorirono prematuramente e di notte si agitavano al vento minaccioso. Il secondo figlio di Neum Thaddeus un ragazzo di 15 anni giurò che si agitassero anche quando non c'era vento ma questo neppure le superstizioni locali potevano accettarlo. Era certo però che nell'aria ci fosse una certa inquietudine. L'intera famiglia Gardner prese l'abitudine di aguzzare le orecchie benché non lo facessero per catturare un suono specifico. Anzi quel drizzare le antenne avveniva in momenti in cui la coscienza sembrava ritirarsi. Disgraziatamente i momenti del genere si moltiplicarono di settimana in settimana finché la gente del circondario cominciò a dire che nella famiglia di Neum c'era qualcosa che non andava. Quando si schiusero i primi fiori fu osservato che avevano di nuovo uno strano colore non come quello dei cavolfiori ma certo a fine sconosciuto a chiunque lo vedesse. Neum colse alcuni fiori e li portò ad Arkham per mostrarli al direttore della Gazette ma quel personaggio si limitò ad imbastirci un articolo umoristico dove le nere paure dei contadini venivano messe educatamente alla berlina. L'altro errore di Neum fu quello di raccontare ad uno stolido uomo di città il modo in cui le grandi sproporzionate farfalle della zona si comportassero con i fiori. Ad aprile nelle campagne si diffuse una specie di follia e la gente cominciò a non usare più la strada che passava dalla fattoria di Neum. Fu questo poco a poco a portare al suo completo abbandono. Era colpa della vegetazione. Gli alberi dei frutteti misero fiori dai colori straordinari e sul terreno pietroso del cortile del pastoro adiacente crebbe un'erba bizzarra che solo un botanico avrebbe potuto ricondurre alla flora abituale della regione. Nessun colore normale o conosciuto apparteneva più a quei fiori e a quegli alberi tranne alcune chiazze di erba verde e una parte delle foglie. Dappertutto si estendevano le folli prismatiche varianti del colore malato e fondamentale che non aveva uguali fra quelli della terra. Innocui fiori di campo assunsero un aspetto minaccioso. Comuni radici inquietavano al solo vederle nella loro perversione cromatica. Ammi e Gardner pensarono che la maggior parte dei colori fossero accomunati da una sorta di straordinaria familiarità e decisero che ricordavano quello del fragile globo all'interno della meteora. Neum harò e seminò il campo da dieci acri e il lotto sopraelevato ma lasciò perdere quello che circondava la casa. Sapeva che sarebbe stato inutile e sperò che gli strani frutti dell'estate portassero via tutto il veleno che ancora restava nella terra. Ormai era pronto a qualunque cosa e si era abituato alla sensazione che vicino a lui ci fosse qualcosa inattesa qualcosa che bisognava cercare di sentire. Il fatto che i vicini evitassero alla sua casa naturalmente influì su di lui ma ancora di più influì sulla moglie. I ragazzi che andavano a scuola tutti i giorni se la cavarono meglio anche se non poterono non essere colpiti dai pettegolezzi. Taddeus un giovane molto sensibile fu quello che soffrì maggiormente. A maggio arrivarono gli insetti e la fattoria di Neum divenne un incubo di creature che ronzavano e strisciavano. La maggior parte degli insetti non erano normali né per quanto riguardava l'aspetto né per i movimenti e le loro abitudini notturne contraddicevano tutta l'esperienza precedente. I Gardner presero l'abitudine di guardare nella notte. Guardare in ogni direzione a caso in cerca di qualcosa che non sapevano definire. Fu allora che si resero conto che Taddeus aveva ragione per quanto riguardava gli alberi e la signora Gardner fu la prossima a notare il fenomeno mentre teneva ad occhio i rami ipertrofici di un acero dalla luna. I rami si muovevano certamente ma vento non ce n'era. Forse era la linfa. Ormai qualunque cosa crescesse dalla terra era straordinaria eppure non furono i membri della famiglia Gardner a fare la scoperta successiva. L'eccessiva abitudine ai fenomeni misteriosi li aveva resi ottusi ma ciò che essi non potevano vedere fu notato da un timido viaggiatore di commercio di Bolton che una sera passava di là senza sapere nulla delle leggende locali. Ciò che riferì ad Arkham meritò un breve paragrafo nella Gazette e fu lì che gli agricoltori Neum incluso lo appresero per la prima volta. La notte era buia e le lampade per attirare gli insetti erano deboli ma intorno ad una certa fattoria in mezzo alla vallata che in base al resoconto tutti identificarono per quella di Neum l'oscurità era meno profonda. Una vaga ma inconfondibile luminescenza pervadeva la vegetazione l'erba le foglie e i germogli mentre ad un dato momento un oggetto fosforescente e in movimento si era spostato in cortile vicino al granaio. Fino a quel momento l'erba non era stata contagiata dal cambiamento e le vacche venivano pascolate tranquillamente nell'appezzamento vicino alla casa ma verso la fine di maggio il latte cominciò a sapere di acido Neum allora spinse le vacche nei terreni sopraelevati con il che il problema cessò non molto tempo dopo il cambiamento dell'erba e delle foglie fu visibile all'occhio la verzura prese un colore grigiastro e manifestò una straordinaria fragilità Ammi era ormai l'unica persona che visitasse la fattoria ma anche quelle visite erano sempre più rare quando le scuole chiusero i Gardner si trovarono virtualmente isolati dal mondo e a volte pregavano Ammi di fare qualche piccola commissione in città il deterioramento della famiglia era fisico e mentale e quando si diffuse la notizia della follia della signora Gardner nessuno se ne meravigliò avvenne in giugno più o meno intorno all'anniversario dell'arrivo del meteorite e la povera donna cominciò ad urlare che nell'aria si vedevano cose impossibili da descrivere in quei discorsi sconclusionati non c'era un solo sostantivo ma solo verbi e pronomi c'erano cose che si muovevano cambiavano fluttuavano le orecchie erano stuzzicate da impulsi che non si potevano definire veramente suoni c'era qualcosa che veniva portato via o forse qualcosa da cui era prosciugata qualcos'altro l'abbracciava mentre non avrebbe dovuto che qualcuno la mandasse via nella notte niente era stabile pareti e finestre si muovevano neum non fece rinchiudere la moglie nel manicomio della contea ma decise che fino a quando fosse stata innocua se agli altri l'avrebbe lasciata in giro per casa non fece nulla nemmeno quando l'espressione della signora cambiò e solo quando i ragazzi cominciarono ad averne paura e Taddeus per poco non svenne alle smorfie che gli faceva decise di confinarla in soffitta entro il mese di luglio la pazza aveva smesso di parlare e camminava a quattro zampe e prima della fine del mese neum si fece l'idea pazzesca che nel buio fosse un poco luminosa proprio come la vegetazione che circondava la casa la fuga dei cavalli risale a poco tempo prima qualcosa li aveva spaventati nella notte e i calci e i nitriti che risuonavano nella stalla erano stati terribili nulla aveva potuto calmarli e quando neum aveva aperto la porta della stalla si erano precipitati fuori come cervi spaventati c'era voluta una settimana per rintracciarli tutti e quattro e una volta trovati si vide che erano ormai indomabili e inutilizzabili qualcosa nel loro sistema nervoso aveva ceduto e per il loro stesso bene fu necessario abbatterli neum si fece prestare il cavallo di ammi per tagliare il fieno ma vide che non osava avvicinarsi al granaglio la bestia scartava recalcitrava e nitriva e alla fine neum non pote fare altro che portarla in cortile mentre gli uomini usavano tutta la loro forza per trascinare il grosso carro abbastanza vicino al fienile in modo che si riuscisse a fissarlo nel frattempo la vegetazione era diventata grigia e friabile anche i fiori dai colori stranissimi cominciavano ad ingrigire e la frutta nasceva grigia nana e senza sapore astere e verghe d'oro misero fiori grigi e distorti mentre nel giardino anteriore rose zinnie e malvarose presero un aspetto così orrendo che zinnas il maggiore dei figli di neum dovette estirparli gli insetti macroscopici morirono all'incirca a quell'epoca comprese le api che avevano abbandonato gli alveari e si erano dirette verso il bosco entro settembre la vegetazione prese a sbriciolarsi sempre più rapidamente in polvere grigiastra e neum temette che gli alberi morissero prima che la terra si liberasse del veleno la moglie andava soggetta a terribili crisi isteriche nelle quali urlava squarciagola padre e figli erano in uno stato di continua tensione nervosa ormai evitavano la gente e quando la scuola riaprì i ragazzi non ci andarono Ammi durante una delle rare visite si rese conto per primo che l'acqua del pozzo non era più buona aveva un saporaccio che non si poteva definire guasto e neppure salato ma consiglio all'amico di scavare un altro pozzo verso la collina e di usare quello finché il terreno non fosse tornato normale Neum tuttavia ignorò il consiglio perché ormai si era abituato alle cose più strane e sgradevoli tanto lui che i ragazzi continuarono ad usare il pozzo avvelenato bevendone l'acqua con la stessa incuranza e meccanicità con cui consumavano i pasti frogali e mal cucinati e durante il giorno inutile svolgevano i loro compiti monotoni e ingrati nella famiglia si era insinuata una forma di stolida rassegnazione come se si muovessero in un altro mondo e procedessero fra due file di guardiani senza nome verso un destino certo e familiare Taddeus impazzì a settembre dopo una visita al pozzo ci era andato con il secchio ed era tornato a mani vuote orlando e agitando le braccia e abbandonandosi ogni tanto ad un lamento farneticante sui colori che si muovevano laggiù due folli nella stessa famiglia sono una tragedia ma Neum l'affrontò con coraggio lasciò libero il ragazzo per una settimana finché cominciò ad inciampare sempre più spesso e a farsi male allora il padre lo rinchiuse in una stanza della soffitta di fronte a quella in cui teneva la madre separata soltanto da un corridoio il modo in cui madre e figlio urlavano l'una all'altro dietro le porte chiuse si rivelò terribile soprattutto per il piccolo Merwin che immaginava di sentirli parlare in un linguaggio non di questa terra Merwin aveva cominciato a sviluppare un'immaginazione spaventosa e la sua inquietudine peggiorò dopo la follia del fratello che era stato il suo migliore compagno di giochi nello stesso periodo cominciò la moria del bestiame i polli presero un colorito grigiastro e morirono rapidamente presentando una carne che al taglio risultava secca e crepitante i maiali ingrassarono in modo straordinario poi subirono una serie di cambiamenti disgustosi che nessuno riuscì a spiegare la carne era ovviamente immangiabile e Neum era alla fine delle sue risorse nessun veterinario rurale osava avvicinarsi alla fattoria e quello comunale di Arkham si dichiarò assolutamente perplesso i maiali erano diventati grigi e friabili tanto che cadevano a pezzi prima ancora di morire mentre gli occhi e il muso subivano bizzarre alterazioni la cosa era tanto più inesplicabile in quanto non erano stati nutriti con la verdura avvelenata poi fu la volta delle vacche in alcune parti dell'animale e a volte in tutto il corpo si verificava un incomprensibile accartocciamento o compressione e non era raro che la sindrome terminasse con atroci collassi o una vera e propria disintegrazione negli ultimi stadi prima della morte che era l'inevitabile risultato le vacche ingrigivano e perdevano scaglie come era successo ai maiali di veleno non si poteva nemmeno lontanamente parlare perché tutti i casi si erano verificati in una stalla autonoma e indisturbata nell'infezione poteva essere stata propagata dai morsi degli animali da preda perché quale bestia sulla terra può attraversare una parete solida doveva trattarsi di una malattia di altro tipo anche se nessuno riusciva ad immaginare quale morbo potesse produrre effetti così disastrosi quando venne il tempo del raccolto nella fattoria non era rimasto un solo animale vivo perché dopo la moria dei polli e del bestiame anche i cani erano fuggiti questi ultimi in tutto tre erano scomparsi una notte e nessuno li aveva più visti i cinque gatti se ne erano andati qualche tempo prima ma nessuno ci aveva fatto troppo caso perché anche i topi erano scomparsi e solo la signora Gardner si prendeva cura dei graziosi felini il 19 ottobre Neum arrivò barcollando a casa di Ammi con orribili notizie nella sua stanza in soffitta il povero Taddeus era morto e la fine era arrivata in un modo che era meglio non approfondire Neum aveva scavato la tomba nel lotto preparato per la famiglia sul retro della fattoria al riparo di una cancellata riponendovi i resti che aveva trovato non poteva averlo ucciso qualcosa che arrivasse dall'esterno perché la finestrella con le sbarre e la porta sprangata erano intatte era lo stesso problema della stalla Ammi e sua moglie consolarono lo sventurato come poterono ma furono presi dai brividi il terrore si era attaccato alla famiglia Gardner e a tutto ciò che toccava e la semplice presenza di uno di loro portava un alito di regioni innominate e innominabili Ammi accompagnò Neum a casa con la più grande riluttanza e fece quello che poté per calmare i singhiozzi isterici del piccolo Merwin Zinas invece non aveva bisogno di essere calmato ultimamente non faceva che guardare nel vuoto e obbedire a ciò che suo padre gli diceva Ammi pensò che il suo destino fosse invidiabile di tanto in tanto alle urla di Merwin rispondevano debolmente quelle dell'attico e allo sguardo interrogativo dell'amico Neum rispose che sua moglie diventava sempre più debole verso sera Ammi riuscì ad andarsene perché nemmeno l'amicizia avrebbe potuto convincerlo a restare alla fattoria quando la vegetazione cominciava ad illuminarsi e i rami degli alberi si mettevano a danzare ci fosse o no il vento era una vera fortuna che Ammi non avesse più che tanta fantasia anche così la sua mente mostrava segni di cedimento ma se fosse stato in grado di riflettere e collegare tra loro i portenti che lo circondavano sarebbe impazzito completamente si avviò a casa nel crepuscolo con le urla della pazza e del bambino nervoso che gli risuonavano orribilmente nelle orecchie e del bambino nervoso e del bambino nervoso